Prava, scusa, io vado. Va pure, ci vediamo a casa. Hai notato qualche cambiamento? La trovi diversa, la tua coinquilina? Si è messa con un ragazzo. Prava, guarda, è per te. Chi me lo manda? Non c'è scritto nulla. Made in Germany. Tuo marito non vive lì? Quando ti ha telefonato l'ultima volta? È stato più di un anno fa. Lo conoscevi bene già da prima? Niente affatto. Un giorno mio padre mi disse di tornare a casa. Quando arrivai lì avevano già combinato il mio matrimonio. Come hai fatto a sposare un perfetto sconosciuto? Io questo non potrei mai farlo. Pensi mai al futuro? Anche chi pensi di conoscere perfettamente Può diventare un perfetto sconosciuto. Mi sarete! A che fate? Nessuno può sfuggire il suo destino. Non è un problema. 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 Grazie a tutti.